Tommaso, siamo ancora alla sesta giornata di eccellenza, però domenica la partita è di quelle molto importanti, affrontate qui al fattore il Fonte Nuova. Quanto sarà importante vincere e quanto anche convincere? Sicuramente la seconda, convincere, perché veniamo da qualche prestazione un po' sotto tono, anche se ancora conserviamo l'imbattibilità, però non ci accontentiamo, vogliamo tornare a fare tre punti, soprattutto adesso che giochiamo in casa, quindi cercheremo di sfruttare questa occasione. Per quanto riguarda la difesa, probabilmente siete soddisfatti perché avete subito solo tre gol nelle prime sei, però che cosa è mancato nelle ultime partite? Come hai detto tu, avete ottenuto tre parigi consecutivi. Sì, diciamo che ci accontentiamo relativamente di avere una buona difesa, anche perché quello è un risultato di squadra, non dipende solo dal reparto. Adesso cerchiamo di ritrovare un pochettino la via del gol che l'abbiamo smarrita ultimamente e come detto sarà fondamentale perché in questo gioco è fondamentale fare un gol più dell'avversario, quindi dobbiamo tornare a segnare prima possibile. Il Fonte Nuova è una squadra che è un po' in crisi perché ha subito ben dieci gol nelle ultime due di campionato, più quattro in Coppa, però ha cambiato l'allenatore, quindi può essere questa un'insidia perché ovviamente il cambio di allenatore può dare ai vostri avversari quella spinta in più? Il cambio di allenatore porta sempre nuove motivazioni insieme alla squadra, quindi tra l'altro l'allenatore loro è una persona molto stimata, molto conosciuta, ha fatto bene, quindi sicuramente saranno vogliosi di venire qua e fare una buona prestazione, però noi abbiamo altre motivazioni, spero anche più grandi delle loro perché dobbiamo assolutamente fare tre punti per sistemarci in vista di alcune sfide molto molto complesse. E vi aspettate una buona cornice di pubblico che vi spinga proprio verso la vittoria? Lo speriamo, lo speriamo ma dobbiamo essere noi in primis a portarli allo stadio, dobbiamo cercare di far riaffezionare la gente a questa meravigliosa piazza e noi siamo qui apposta.